Lo andavamo a definire qui nell'HTML, mettevamo required se vi ricordate e così l'input diventava required. In reactive form non si fa così ma come vi ho detto si fa dal punto di vista di codice quindi tra i vari parametri c'è nel new form control se guardate oltre a esserci il valore iniziale o il control state che magari andremo a vedere dopo c'è anche il validator options. Quindi come si fa? Validators.required. Salviamo e a questo punto il luogo diventa un campo di tipo text required. Come facciamo capire che è required? Come abbiamo visto l'altra volta se nel bottone ci metto disabled il form ci dà diverse property quali ad esempio l'invalide. Quindi se il form non è valido il pulsante si disabilita. Salviamo e vedete che il pulsante viene disabilitato appena io scrivo si abilita. Se io cancello vedete il JSON con questa sarebbe valido ma il form non è valido quindi non posso fare il submit del form. E quindi abbiamo la possibilità di abilitare o disabilitare il pulsante. Però abbiamo visto prima che abbiamo Ah aspettate scusate abbiamo messo il required però l'utente non riesce a vedere se c'è un errore nell'input no? Cioè lo sappiamo noi vediamo il pulsante disabilitato però vorremmo far vedere anche un messaggio di errore. Come si fa? Più o meno come abbiamo visto anche l'altra volta facciamo un if. A questo punto dobbiamo chiedere form.controls.luogo. Vedete che l'intellisense mi dà anche i nomi dei controlli. Questo perché? Vabbè ve lo svelo dopo. Ok. luogo. Punto. A questo punto noi qui abbiamo la possibilità di avere punto asError di tipo required. E quindi facciamo vedere uno small valore obbligatorio. Salviamo. Vedete che salta fuori. Se vi ricordate l'altra volta è vero che il controllo non è valido. Ma avevamo messo anche altre due proprietà. Quindi qui possiamo anche mettere invalid. Ok. Quindi il problema c'è lo stesso. Vedete si toglie ma ovviamente se io carico il forum per la prima volta l'utente viene un po' si spiazza un po' a vedere subito il valore obbligatorio. Se di solito si mette l'asterischetto magari qui. Quindi se il luogo obbligatorio di solito l'interfaccia no? Mettono l'asterisco per indicare che questo campo è obbligatorio. Ovviamente l'errore viene visualizzato soltanto in un secondo momento. E come abbiamo visto l'altra volta anche in questo caso abbiamo form punto controls punto luogo che è il nome proprio del controllo punto dirti. il dirti se vi ricordate è quando viene modificato il valore della property. Quindi all'inizio non vedo più l'errore se io compilo non vedo più l'errore ma se cancello compare l'errore. Ora andiamo a stilizzare anche l'errore facciamo class error ok e andiamo a stilizzare anche questo quindi small punto anzi small vi faccio vedere in scss come creare small con il punto error quindi mettiamo una e-commerciale punto error e qui possiamo applicare lo stile text red facciamo un 400 vediamo un po proviamo a mandarlo in errore eccolo qua valore obbligatorio magari anche ci mettiamo un font bold guardate ecco è già più carino andiamo che abbiamo messo sotto il luogo ma se vi ricordate intanto questa cosa possiamo anche chiuderla quindi dobbiamo inserire vogliamo inserire diciamo un radio button ok quindi tipo ricerca tipo ricerca due punti new form control e ci mettiamo apice apice ovviamente questo questo tipo ricerca sarà required perché altrimenti non potremo fare la ricerca tipo ricerca quindi avrà il valore o per destinazione o per percorso nel form andiamo a creare cosa andiamo a creare andiamo a creare un radio button lo so non è molto molto carino diciamo da vedere però mi serviva a farvi vedere un radio button ok quindi che andiamo a creare andiamo a creare sempre questo class che l'abbiamo già definita un form input questo lo cancelliamo perché perché sarà un radio button ok ci andiamo a definire una label quindi qui ci mettiamo tipo di ricerca andiamo a vedere tipo di ricerca perfetto le label così nere non mi piacciono tanto andiamo a stilizzarla un attimo il form input ci mettiamo label apply text white andiamo decisamente più carino abbiamo definito il label e proviamo a metterci il nostro il nostro t input input due punti radio per due andiamo a creare questi due tipo radio andiamo a cancellare questo che non ci interessa e qui dobbiamo definire dobbiamo agganciare il radio alla property se ce riesco tipo ricerca ok come si fa come abbiamo visto prima form control name uguale tipo ricerca form control name uguale tipo ricerca quello che cambia tra i due è il valore il valore mettiamo in binding value e lo andiamo a definire qui come il primo possiamo metterlo per percorso percorso e il secondo andiamo a definirlo per distanza distanza quindi qui ci scriviamo per percorso e per distanza andiamo a salvare non è proprio il massimo ma se io clicco per percorso vedete tipo ricerca per percorso se clicco per distanza mi salta fuori tipo ricerca distanza andiamo a stilizzare un pelino meglio questi due radio button perché sono proprio orrendi non mi piace proprio per nulla quindi magari il tipo di ricerca potremmo farlo in line quindi facciamo un flex flex row e un item center vediamo un po' come risulta flex flex row vediamo un attimo form input non è che mi piace tanto neanche così ah giusto andiamo qui no flex scroll no facciamo flex row andiamo a sistemarlo un po' meglio e stilizziamo un pochino anche i radio qui mi ero preparato delle classi quindi andiamo a prenderle nel nostro form input e andiamo a prenderci eccole qua ok andiamo a prenderci la label che è questa e per quelle col punto radio andiamo a settare gli input type vedete in questo modo ora fidatevi a questo punto la label stilizziamo un pelino meglio questi radio io ho già preparato il controllo andiamo a vedere perfetto ok è un po' più carino dai risultato non cambia magari ci aggiungiamo una classe sulla label per differenziarlo un po' quindi mr facciamo uno spazio di 2 vediamo mr3 4 no 4 troppo 3 ok e magari a questo qui ci diciamo di fare un gap di 3 vediamo eh già è già più carino ora sulla base di questo vedete salta fuori il tipo di ricerca cioè vogliamo cambiare diciamo il tipo di ricerca questo luogo non mi piace moltissimo vediamo un po' intanto quindi flex flex col accelliamo via l'asterisco così diciamo ecco magari se aggiungiamo un po' di spazio gap 3 ok items center così un po' una fattezza di un form la riesce a raggiungere quindi vedete qui ho possibilità di scegliere se per distanza o per discorso ovviamente la prima volta il tipo di ricerca non può essere vuoto potrei metterci il validetto required ma la cosa migliore qui è dirgli ad esempio che lo voglio direttamente per distanza quindi se metto qui il valore iniziale nel form control ve l'avevo detto prima questo è il valore iniziale vedete che automaticamente se io faccio un refresh del nostro form praticamente ho già il radio button selezionato vedete quindi qui ho già il valore iniziale di questo di questo radio button ovviamente cosa posso fare posso far vedere o no un qualcosa sulla base di un valore quindi ad esempio tutto questo pezzo qui del luogo posso decidere di non farlo vedere quando sono ad esempio nella ricerca per percorso quindi come posso fare se io faccio un if form punto controls punto tipo ricerca punto value value uguale 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 a in questo caso percorso farò vedere qualche cosa oppure sif form punto controls punto tipo ricerca punto value uguale 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 a distanza e questo div lo mettiamo qua dentro eccolo qui adesso io salvo quando sono per distanza vedo il luogo quando vado per percorso non vedo più niente come vedete però siccome è programmatico cioè reactive parte prima dal codice il json non è cambiato quindi continua a rimanere sempre lo stesso anche se io non faccio vedere il form e questo secondo me è uno dei dei vantaggi se lo facevamo col template form il luogo probabilmente scompariva quindi questo è una delle cose che ad esempio su reactive form è molto utile far vedere magari se abbiamo dei tab page li facciamo vedere prima una pagina poi l'altra il json del risultato è sempre lo stesso chiaro ovviamente il luogo a questo punto possiamo raggrupparlo se è il tipo di ricerca possiamo anche decidere di raggrupparlo quindi qui possiamo dire nel caso appunto di una ricerca per distanza ok quindi nel tipo di ricerca per distanza potremmo definire la ricerca appunto per per distanza due punti new form group aperta tone come Grazie a tutti.